Grazie! 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 Grazie Renato Rusyan di Colmò! Grazie! Renato complimenti! Come si chiama il tuo primo brano? Sentirmi! Hai sentito molto bene, senti so che hai dei programmi in futuri splendidi, brillantissimi, hai iniziato questa carriera in grande... Ma dopo tanti anni di duro sacrificio, anche perché Friuli è un posto abbastanza difficile per quanto riguarda l'esprimersi dei cantautori, l'esprimersi anche della musica rock, io cerco un genere abbastanza rock, e mi è un po' difficile, ho dovuto trasferirmi a Bologna, dove ho avuto dei buoni incontri. Ma poi Friuli sa apprezzare, sai le buone cose, aspetta, aspetta, vedrai. Senti, ecco, dimmi a Bologna che programmi hai adesso? Niente, ho trovato il batterista di Guccini, che è un personaggio molto simpatico, che ha detto che sarebbe disposto a collaborare, a formare un gruppo, abbiamo già formato un gruppo, e grazie a una persona di Cormons, che vuole sponsorizzarci, vuole farci fare una torne sulla costa di Riattica questa estate, e avremo questo gruppo con il batterista di Guccini e gente di Bologna molto in grado. Spero di fare il meglio come rappresentante del Friuli, per esempio. Certo, vedi? E questo applauso saluta e ti fa tanti tanti auguri. Posso dire solo ancora una cosa? Ecco, vorrei salutare tutti i miei amici di Cormons, in particolare, anche fuori, che sono molti che mi seguono, anche quelli che non mi seguono, che hanno fiducia in me e spero molto presto di dargli un concerto dal vivo, qui in regione, molto valido. Grazie, buonasera. Grazie. Grazie.